principessa shuri ecco di cui hai detto che eravate disponibili a condividere qualche informazione tutto quello che vuoi il luakanda avrà accesso a tutti i dati della resistenza grazie mi stupisce che il vibranio corrotto si sia diffuso così tanto fuori dai nostri contini dovremo contenere i danni provocati da clou sapete dove si trova digli del rete chi mo io chi mo io questa è la rete chi mo io beh una parte in termini di cap è come internet ma meglio molto meglio la rete chi mo io permette al nostro popolo di accedere a tutta la conoscenza del luakanda la usiamo per le comunicazioni i trasporti e molte altre grandi cose e tutto grazie alle nostre perle chi mo io e non vuole darcene neanche una solo per i cittadini stiamo sfruttando la rete per tracciare gli spostamenti di clou per ora è tranquillo ma se fa qualche movimento i nostri guerrieri lo troveranno non ne dubito grazie per i dati captain quando hai un momento c'è una persona che vorrebbe incontrarti se l'onorevole ospite volesse scendere nelle mie stanze lo apprezzeremo segui il fumo beh questa è nuova è una mia impressione o quelle guardie ci fissano in modo esistente lo trovi strano sembra che tu sappiamo sì sì non c'è bisogno di ripetersi già ti senti dimenticato non vedo il perché hanno dato il tuo nome a una città smettila ho un ospite steve rogers il capitano dell'america sono onorato di poterti finalmente incontrare re asuri parlava sempre del suo incontro con l'uomo americano dei ghiacci l'onore puoi chiamarmi zawa vari sono il consigliere mistico della famiglia regale del wakanda posso chiederti un favore captain assolutamente il giovane re sembra fidarsi di te cerca di non deluderlo non prenderò la nostra posizione alla leggera in cambio un segreto gli dei centrano con la tecnologia wakandiana molto più di quanto tu pensi chiedilo a nix è l'assistente servitore della principessa gli dirò che ti mando io apprezzo la tua guida e che gli orisha possano guidare i tuoi passi capitani la nostra figlia ha preso da te sai la sua rivalità zawa vari la perla per le comunicazioni del tuo bracciale che muoio funziona ancora vero perché inviare messaggi nella testa delle persone è inquietante sono qui bella postazione di lavoro ricerca e sviluppo bellico i cui risultati sono ora disponibili anche a voi potete ringraziare la principessa shuri lo farò stai lavorando a qualcosa di interessante guarda pure zawa vari mi sta aiutando a scoprire le proprietà più mistiche del vibranio se doveste dimostrarvi i degni alleati del wakanda forse ne raccoglierete i frutti è una bella responsabilità segui il nostro re e tutto andrà bene è stato un piacere nix steve vieni nella sala di guerra di sopra qualcosa non va il capitano coi e vuole parlarci pare ci sia un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza arrivo subito subito grazie coi capitano coi e qual è il problema rete challa ha una richiesta i nostri scout riferiscono che lo sta mobilitando le sue forze nel wakanda con grande facilità riteniamo che clou abbia trovato un punto cieco nei sistemi di sicurezza wakandiani ok e indagherà e noi rinforzeremo i sistemi sembra che lo sappia il fatto suo molti hanno provato a conquistare il wakanda a privarci del nostro retaggio come vedi hanno tutti fallito fallirà anche clou vi aiuteremo come potremo bene avete il permesso di usare il tavolo strategico sfruttiamo il tuo vibranium captain grazie grazie a tutti Grazie a tutti. Dì la verità, volevi solo mostrare il costume. Come sempre, non so proprio di cosa tu stia parlando. Riconosco gli Avengers come alleati del Wakanda. Grazie. Speriamo di essere all'altizia. Vi dovrete abituare a stare al mio passo. Questo è il modo di mio fratello di accogliervi. Dovrete abituarvi anche a questo. Hai finalmente accettato l'aiuto di qualche straniero. Chi l'avrebbe detto? Non mi sto facendo aiutare. Io aiuto loro. Permettimi di mandare delle squadre ai siti corrotti. Porta con te le Dora Milaje quando affronti l'AIM. Per una volta non lanciarti contro il pericolo senza pensare. Non sono solo un re sul trono. Io sono Black Panther. Dimostra che puoi essere entrambi. Lo farò. Avengers, confido che abbiate preso familiarità con il palazzo. Il tuo popolo è stato molto accogliente. Vorrai vedere meglio il Wakanda una volta sconfitto, Klo. Sei proprio un turista. Un turista? Ad Asgard noi la chiamiamo avventura. È una trasmissione d'emergenza. Qui è Okoye. Ci stanno respingendo. Ci serve assistenza. Non riuscite a gestire da soli le forze di Klo? Non è solo Klo. Ha rivolto i nostri sistemi difensivi contro di noi. Non è solo Klo. Impossibile. Abbiamo perso il segnale. Se Klo ha superato la codifica Kimoyo, c'è qualcosa di molto sbagliato. Allora credo sia giunto il momento che gli Avengers vedano di cos'è capace Black Panther. Sarà un onore accompagnarti. Fate presto. Non mi piace pensare che Klo possa impadronirsi della nostra tecnologia. Sorella, notizie di Okoye. Ancora nessuna risposta. Okoye sa cavarsela da sola, no? Le Dora Milaje sono le migliori guerriere dell'Uokanda. Ma anche loro possono essere sorprese. Speriamoli bene. L'ultima trasmissione di Okoye proveniva da questa zona. La troveremo. Se le nostre difese sono compromesse, sarà pericoloso spostarsi nella giungla. Non importa. Apprezzo le sfide. Non ci faremo spaventare. Rilevo trocce termiche più avanti. Di origine... Neumana e robotica. Li coglieremo di sorpresa. Shuri sembra preoccupata per te. Shuri è diventata iperprotettiva da quando è morto nostro padre. Lei lo ne... Non ci faremo spaventare da quando è morto nostro padre. Vuoi unirti a me, mio amato? Sarebbe un onore. Amato? È così che le Dora Milaje chiamano Patti. Unitevi a noi, Avengers. Wakanda per sempre! Quelle torrette picchiano forte! Distruggiamole! Potremo ricostruirla in seguito! Non ci faremo spaventare, Grazie! 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 Ci avviciniamo alla scorciatoia per Fortana. Usate le placche a pressione per attivare il terminale del passaggio segreto. Ho messo un timer nel caso siate troppo avventati. Quel passaggio, eh? Dicevi che non potevo accedermi. Se fosse vero non lo conosceresti neanche. Non volevo renderti la vita troppo facile. Raggiungete velocemente la console davanti alla cascata o sparirà. Sarebbe bastato un cartello vietato l'accesso agli uomini, sorella. Tieni il timer. Rende le cose interessanti. Ora che so che ti piace, lo toglierò. Ricane! Voi! Gli uomini! Sarebbe la qualità di capire. Sono arrivati gli uomini di Klo! Nemici in arrivo! Siamo! Sori, come hanno fatto gli uomini di Klo a entrare nel passo? Devono aver rubato le perle Kimoyo. Traccerò quelle che hanno usato e le rimuoverò dalla rete. Da qui arriveremo vicino al confine. Sori, notizie dalla torre Akherata. Sto avendo problemi a contattarli. Mi scuso per la confusione, vostra altezza. Sto ancora imparando ad usare la vostra rete. Sei quello che si vanta di essere il generale di un esercito corporativo? Ulysses Klo ha il tuo servizio. Quando ti troverò, implorerai una pietà che non riceverai. Meglio sbrigarti allora, re orfano. Non ospetterò per sempre. Ci prende in giro? Fratello, so dove si trova. Anch'io, nel centro di controllo della rete Kimoyo. Non sembra rassicurante. Se Klo ottiene l'accesso a tutta la rete, bloccherà le nostre comunicazioni. O peggio, rivolgerà tutte le nostre tecnologie contro di noi. Cambio di programma. Avengers, corriamo! Ci restiamo. Cliccate il nostro coro. Padre il nostro coro. Se riuscite il nostro coro. E development. Rolando. Fincate il nostro coro. Spiando un coro. Stai bene, fratello. Ok, proseguiamo. Altro vibragno corrosso. Dovremmo distruggerlo. In questo stato, la guglia è protetta da uno scudo. Dovrò aspettare che si surriscaldi. No, causerà danni permanenti. Devo sbrigarmi. Altri uomini di Klo. Tagliategli la strada! Arrivano! Tagliategli la strada! Come in, Papi. Ho un paio di giocattoli pensati per te, Panther. Come in, Papi. Ah, avete incontrato il comitato da fondato. Che cosa hai fatto ai nostri uomini? Non preoccuparti. Non hanno sofferto molto. Non sofferto. Ottimo lavoro, Jet. Venite. Non abbiamo tempo da perdere. Non sofferto. Non sofferto. Siamo diretti al centro di controllo. Che mi dici dell'altra torre? Ho mandato un Jet Talon e Okoye e la sua squadra stanno arrivando. Ma Clow mi ha accecata completamente. Saremo noi i tuoi occhi. E i miei artigli. Siamo arrivati. Disattivate tutto prima che Clow prenda il controllo di tutta la rete. Molto gravito. Perché è ancora alimentato? Eccolo. Mi spiace. Non posso fermarmi. Uomini! Attaccatelo! Stanno attaccando i depositi dei server. Senza. La rete Kimoyo collasserà. E non potremo riattivarla a meno di costruirne di nuovi. Dovete fermarli! Avengers! Con me! I suoi uomini stanno attaccando i punti d'accesso. Dovrete tenerli lontani mentre cerco di rientrare. Da qui posso accedere alle torrette. Così guadagneremo tempo. Potreste sovraccaricare il generatore. L'AMP disattiverebbe per un po' le forze di Clow. Disattiverebbe anche le nostre torrette. Finché non potrete riattivarle, sì. Assicuratevi solo che non distruggano i punti d'accesso prima che io li riattivi. Ci pensano io. Eccolo lì! Fate l'alto! Eccolo l'alto! Eccolo l'alto! Eccolo l'alto! Eccolo l'alto! Grazie a tutti. 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 Dobbiamo proteggere i server a tutti i costi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.